Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ecco a te Ok Grazie Una maglia blu, numeretto di scarpe 65 Un po' grande Che cazzo ricevi? Tenghi 140 Mamma mia Tenghi traghetto in coppa di pire Quando ti direi tu? Chissà pure coppa l'acqua, capite? 140 di pire No, che non mi resta di scarpe 140 prendono all'escanso, Fran Uno dei miei primi sabbolo Il primo in assoluto Sì? Il primo in assoluto C'è il fondatore del mio piano C'è l'1% E si vuole che si vuole anche il live da me Vedi? Il primo in assoluto Il primo in assoluto Teo grado Allora Eccomi qua, penso che funziona tutto Il telefono lo lasciamo qua, così prenderà lì Eccomi Sì, adesso andiamo Ok Ciao 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 non lega la scuola ok ragazzi che pezzo brava 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 l'ha fatto lei ok e di nascosto c'è la mande non 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 verso ovest dovrai andare e il lago costeggiare al bivio prima del ponte pronto pronto buonasera che sente? pronto 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 ma tortellina sforzo tale mi scusi ma io stai mochando sotto brega brega prega 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 per noi Maria prega per tutti voi madre che tutto voi apri di noi pietà prega puoi raffredd e pare un avvocato qualsiasi cosa che era detto che era messa contro di lei al tribunale il nostro ha diritto un avvocato se non se lo permettere che era assegnato uno d'ufficio ha compreso i suoi diritti buonasera maestro come va? puoi salutare il gruppo aerea fifty one te va a fugare con level up Mannaggia cazzo usate Il 15% di sconto Ponte squamati voli per l'app 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 L'hai fatto 3 volte Lo sai In chat il botte spamma una volta Ma tu si non capace Proprio Non capisci E ti crei un altro account Ti sbagliano lo stesso Allora ragazzi sto studendo dopo piglio mamma lo voglia frevo cosa finico gli abbrunghi del muro la vita è così mi sono masturbato ci fatto con una bella chiavata ufante magari a riga manchi dopo il binocolo a proposito del binocolo raggiù a proposito del binocolo io direi no ma di bene vado no 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 questo non accetto questa non l'accetto questa non l'accetto questa non l'accetto no 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 questo non l'accetto fra non l'accetto questa non l'accetto sta potendo un po la palla comunque mi sono visto squid game siamo in live e siamo in live però che si vede tutto grazie maestro è un onore a posto noi benissimo sono contentissimo buona lei grazie maestro tempo di dire al burro grazie per gli undici mesi ma che fate ma chi è stato sta maccherando sta maccherando ringraziare dei bei momenti che ci ha regalato 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 non mi piace, non mi piace oh mi piace, vai qui chiusso che sei sta ciasi chi sono chi si sta fuì 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 piu ti dobbiamo agli animi non puzzano puzzano. ti dobbiamo vai giù non andate alla posizione stanno 3 i motorciclisti che cosa? non andate alla posizione ci stanno inseguendo vai giù vedi imbascate in città e rimanere te rimanere di ragazzo ah